Ciao a tutti e bentrovati su Milla Docet. Oggi parliamo di San Tommaso, cioè Tommaso d'Aquino. Il tomismo, che è la filosofia prettamente di Tommaso, quindi la sua filosofia si chiama tomismo, e la scolastica, che invece è una filosofia, come vedremo, precedente, che però Tommaso porterà all'apoggeo. E quindi normalmente viene accostato a questi due termini. Tommaso nasce ovviamente in Italia, tuttavia insegna anche all'estero, nell'Università di Parigi e Colonia. Siamo nell'ultima parte del pieno medioevo, cioè tra 1221 e 1274, cioè prima del momento dell'autunno del medioevo, che ne segnerà la decadenza. Tommaso è il massimo rappresentante della scolastica. Allora, la scolastica insieme alla patristica è una di quelle due branche in cui si suddivide la filosofia medievale di stampo cristiano. La patristica è anteriore e corrisponde ai primi secoli. La scolastica si afferma circa dal fine V secolo, inizio VI secolo, quando cioè vengono chiuse le scuole romane, ancora, e vengono, quindi pagane, e vengono aperte le scuole medievali, ovviamente d'impronta cristiana. Quindi la scolastica è quel tipo di filosofia, vi ho scritto teologica, nel senso che è connotata specificamente come teologia, che si insegnava nelle scuole medievali. Vi ho scritto un po' i passaggi, cioè i rappresentanti principali della scolastica, innanzitutto Boezio, e poi Anselmo d'Aosta e Abelardo per culminare appunto con Tommaso d'Aquino, che in realtà è quello che darà alla scolastica la sua impronta fondamentale, che è stata poi ripresa dalla dottrina cristiana, che quindi si fonda in maniera sostanziale proprio sulla scolastica. La scolastica, come vedremo, è di derivazione aristotelica. E questa è un po' una novità, perché ad esempio invece Agostino si rifaceva molto a Platone, non direttamente, ma soprattutto al neoplatonismo. Invece la scolastica, come vedremo, ha un impianto molto più strutturato, molto più scientifico quasi, mi viene da dire che viene proprio da Aristotele. Allora, Tommaso era un dominicano, è stato discepolo di Alberto Magno, e professore anche in alcune università, sia italiane, sia europee. Partiamo dal concetto fondamentale, diciamo la vexata questio, della filosofia medievale di sempre, e cioè il rapporto tra fede e ragione. Secondo Tommaso c'è una sorta di conciliazione tra questi due momenti, e cioè la filosofia è un preambulum fidei, cioè una preparazione alla fede. La filosofia e la fede sono dunque autonome, o meglio, sono autonome nel momento in cui hanno metodi e strumenti completamente diversi, che non sono riducibili l'uno all'altro, tuttavia complementari, perché la filosofia è come a dire una primancella della fede. Infatti la filosofia porta tramite la ragione alle verità razionali, e da lì tramite la fede si passa alle verità teologiche, che sono un passaggio successivo. Quindi la fede orienta la ragione, così come la teologia perfeziona la filosofia. La fede diventa dunque la guida della ragione, e la ragione, ho scritto razione, raggiunge verità universali, mentre la fede parte dalla ragione per illuminare le verità teologiche. Ormai, diciamo, sul finire del Medioevo, questo problema non era più così sentito, ma soprattutto all'inizio, addirittura con la patristica, ad esempio, il rapporto fede-ragione non era dei più semplici, perché calcolate che la fede, cioè il cristianesimo, andava a innestarsi su un impianto filosofico che ovviamente era basato sulla ragione, e quindi all'inizio ci furono parecchie questioni proprio sull'importanza della fede o sulla autorevalezza della fede a fianco della ragione. Allora, il centro su cui si focalizza Agostino è Dio, ovviamente è un filosofo cristiano, però, mentre gli altri parlavano anche dell'uomo e del mondo, Tommaso ne parla, come dire, per inferenza, nel senso dice, Dio deve essere l'oggetto primario delle riflessioni, perché solo a partire da Dio, e quindi dalla rivelazione, si può poi andare a tematizzare l'uomo e il mondo. Quindi Dio è proprio il centro da cui partono, mi verrebbe da dire quasi per induzione, sempre per usare un termine aristotelico, poi tutte le altre, per deduzione, scusate, partono poi tutte le altre deduzioni, appunto. Allora, quindi, il concetto fondamentale della filosofia di Tommaso è la centralità di Dio, visto come creatore dell'essere in quanto tale, e non solo delle forme dell'essere, che diventa il fondamento di tutta la filosofia tomistica, o tomismo, abbiamo detto come si chiama la filosofia di Tommaso, che si può dividere, diciamo, in senso abbastanza generico, in tre parti, ontologia, teologia e morale. L'ontologia, si rifà ancora la terminologia aristotelica, vedete, è la scienza dell'essere, quindi, diciamo, i massimi sistemi. Da lì passa a parlare più nello specifico della teologia, con le prove dell'esistenza di Dio, e infine, come abbiamo visto per inferenza, passa all'uomo, e quindi la morale, cioè l'ambito della giro umano, dell'etica. Allora, partiamo dall'ontologia, che è la base, no? Abbiamo detto la dottrina dell'essere. L'ontologia, trattata in maniera così sistematica, ovviamente è di derivazione, abbiamo detto aristotelica. Dunque, per Tommaso, l'ontologia corrisponde più che altro a una metafisica dell'essere, o actus essendi, come lo chiama Tommaso. Perché? Perché fino a lui si era indagato più che altro l'essenza, o meglio, l'ontologia classica indaga l'essenza. Invece, Tommaso si concentra proprio sull'essere. Fa, infatti, una distinzione tra ente ed essenza e dice che l'ente è più importante. L'ente può essere di due tipi. O logico, cioè mentale, diciamo concettuale, e unisce concetti, tuttavia non tutto ciò che si può pensare esiste. Secondo tipo di ente, ente reale, cioè un ente extra-logico, no? Extra-mentale, che corrisponde alla realtà. Ogni realtà, quindi, per Tommaso è ente. L'ente si predica per analogia del mondo e di Dio. Dobbiamo anticipare un attimo il discorso dell'analogia. Allora, siccome il mondo è una creatura di Dio, è emanazione, diciamo, di Dio, c'è un rapporto di analogia tra Dio e mondo. Analogia vuol dire che sono simili, ma nel senso che il mondo partecipa in parte, ovviamente, seppur in maniera molto imperfetta, della natura e quindi degli attributi di Dio. Quindi, ciò che si può dire di Dio, per analogia lo si può dire per il mondo. Ovviamente non è un'analogia, come dire, allo stesso livello, ma sarà, ovviamente, analogia tra qualcosa di infinitamente assoluto, che è Dio, qualcosa di completamente finito, invece che è l'uomo. Allora, parliamo dei due enti principali che ci sono. Uno è Dio, cioè l'ente sovrannaturale, e l'altro è il mondo. Per mondo, ovviamente, Tommaso intende tutto il creato, quindi tutto ciò che non è Dio. Allora, Dio è, contemporaneamente, essere più essenza, cioè Dio è l'essere. Il mondo, invece, è pure essere, tuttavia, non ha l'essenza, nel senso che non è necessariamente essenza, perché l'esistenza, che in questo caso è sinonimo di essenza, non è necessaria per il mondo, tant'è che può essere creato, ma può essere anche distrutto, le creature, gli uomini possono nascere o morire. Quindi l'esistenza, ovvero l'essenza, non è compenetrata col concetto di mondo, ma è semplicemente una possibilità, un attributo. Questa possibilità, detto proprio in termini aristotelici, è acto, cioè actus, di essere essendi. Quindi il mondo ha come sua propria caratteristica l'actus essendi, cioè la possibilità di essere, letteralmente l'atto di essere, che lo porterà all'esistenza, ma sarà un'esistenza di tipo contingente, cioè che ha un inizio e una fine, mentre Dio è essenza pura, quindi perennemente esistente, e puro essere. Il mondo è essere, ma non necessariamente essenza. Quindi, dice Agostino, il mondo ha l'essere. Mentre Dio è l'essere, il mondo ha l'essere, perché ce l'ha come proprietà, e quindi in un certo contesto può averlo, e in altri no. Quindi, mentre Dio è necessario, necessario significa, è sempre terminologia aristotelica, avete notato, cioè necessario vuol dire che è qualcosa di non, che sfugge al concetto spazio-temporale, quindi qualcosa di eternamente sussistente, il mondo invece è contingente, cioè è materiale, è sottoposto al divenire, è sottoposto alla possibilità di essere o non essere. È l'essere che consente alle essenze di realizzarsi e trasformarsi in enti. Abbiamo detto l'essenza è per, ce l'ho con Agostino oggi, è per Tommaso accessoria rispetto all'essere, tant'è che la sua ontologia è una metafisica dell'essere, quindi l'essenza è subordinata ed è come dire gestita in qualche maniera dall'essere stesso, quindi l'essere è più importante dell'essenza, come abbiamo detto sopra. Avete capito che essere e ente sono sinonimi, praticamente. E quindi le domande fondamentali per Tommaso sono cos'è l'essere e perché c'è l'essere e non il nulla. Arriviamo dunque agli attributi principali dell'essere, che Tommaso chiama trascendentali, cioè, come dire, dei concetti a priori, che sono trascendenti rispetto alle categorie, che sono invece sempre, con termine aristotelico, i modi di essere dell'essere stesso, cioè i modi di presentarsi dell'essere. I trascendentali dell'essere, quindi le qualità peculiari, chiamiamole in maniera un po' molto banale, sono tre. Sono uno, vero e buono, cioè unità, verità e bontà. Quindi l'essere è unum, verum e bonum. Ogni ente comprende in sé uno vero e buono. L'uno, perché l'essere è intrinsecamente non contraddittorio, cioè è unità, è unitario. L'unità ovviamente si predica di Dio e dell'uomo, ma per analogia, quindi di Dio in senso assoluto, no? Quindi Dio è unità. L'uomo invece in senso relativo, perché l'uomo è unità per composizione di essenza più actus essendil, che significa che non sarà sempre e senza più essere come Dio, ma è, come dire, solo quando la sua possibilità si avvera sarà unità completa, altrimenti è sempre un po' monco, voerino, va bene? Poi, l'essere è vero, perché ogni ente è intellegibile, cioè possiede due tipi di verità, secondo Agostino, che sono una verità ontologica, cioè che sussiste in sé per sé, a prescindere dalla nostra percezione di essa, è una verità logica, cioè quella puramente conoscitiva. Non necessariamente vanno di pari passo, evidentemente, queste cose. La verità, ovviamente, di ogni ente dipende dal grado di essere che possiede, quindi Dio, che è sommo ente, sarà sommo verità. Ovviamente le creature saranno verità conformemente al grado di essere che hanno. Infine, l'essere è buono, perché tutto ciò che c'è è buono, perché è frutto della bontà di Dio. Infatti, Dio è sommo bene. Ovviamente, anche qui, il buono si predica per analogia rispetto tra Dio e essere, e mondo, e secondo gradazioni. Quindi, ogni cosa sarà buona a seconda del grado di essere che possiede, sarà sempre lo stesso ragionamento. Vedete che è molto metodico, no? Proprio aristotelico, puro. Allora, quindi, ne consegue che Dio è causa del creato. Sì, vabbè, questa era un po', diciamo, la premessa. Comunque, vabbè. In conseguenza del fatto che Dio è causa del creato, il creato, ovviamente, ha somiglianze con Dio. Tuttavia, il fatto che Dio sia completamente trascendente, assoluto e superiore, cioè la trascendenza divina, implica un'insuperabile distanza tra creatore che ha creato. Cioè, si crea un oiato, diciamo, una rottura che è insanabile, evidentemente, no? Perché il creato è creato e quindi è finito, mentre Dio è increato e quindi eterno, per dirne una. Quindi, la conoscenza umana di Dio può essere, si dice che è apofatica, cioè, vuol dire, è solo per via negativa. Noi non possiamo dire cosa è Dio, ma possiamo dire cosa non è. Quindi, Dio non è umano. Però, non so, è la prima cosa che mi è venuta. Dio non è finito, ecco, Dio non è finito, Dio non è sottoposto al divenire, Dio non è, quello che volete, contingente, e da qui si arriva, come dire, a posteriori a dedurre una natura di Dio che però parte dal negare le qualità umane che sono le uniche che noi possiamo conoscere. Questo vuol dire teologia negativa. Quindi non vuol dire semplicemente, non so, negativa, nel senso che nega qualcosa, cioè che ha un approccio di tipo negativo, ma che parte dalla negazione dell'aspetto umano, in questo caso, per inferire un aspetto divino, che è ovviamente altro, e quindi negazione dell'ambito umano. Dal fatto che il creato è fatto da Dio, e quindi ci sono delle somiglianze, inferiamo il concetto di analogia tra Dio e mondo, di cui abbiamo parlato anche sopra. Quando parliamo di analogia tra Dio e mondo per Tommaso, vogliamo dire che c'è una partecipazione tra l'essere infinito di Dio e l'essere finito, ovviamente, degli enti creati, che chiaramente sarà impari, no? Come attribuzione. Anche tutti i trascendentali si predicano di Dio e del mondo per analogia, proprio perché avendo Dio creato il mondo, avrà riversato sostanzialmente nel mondo le sue qualità, seppur ovviamente in maniera infinitamente ridotta, ecco, sì, per dirla un po' banalmente. Veniamo dunque alla teologia pura. Dice Agostino. Ce l'ho con Agostino oggi. Dice Tommaso, ok? Tutte le volte che io dico Agostino voi sostituite Tommaso, che fate bene. Allora, dice Tommaso, sì perché, diciamo, tra i due a me piace più Agostino, non si capisce, e quindi è un po' il mio parametro. Dice Tommaso, invece, Dio è il primo in ordine ontologico, questo è chiaro, no? Perché è il suo ommo essere. Ma non gnoseologico, cioè quando vogliamo conoscere, no? Gnoseologia è la dottrina della conoscenza, Dio in realtà è l'ultimo che conosciamo, perché, come abbiamo detto, la teologia è una teologia negativa, e quindi possiamo solo dire che cosa non è, a partire da quello che vediamo in terra. E quindi dice Tommaso, che Dio è colto per inferenza dai suoi effetti, quindi la conoscenza che abbiamo di Dio è solo a posteriori, in base a quello che vediamo, e diciamo, Dio però non è così come lo vediamo, ma è superiore. Da questa visione delle cose a posteriori, Tommaso, tira fuori praticamente le cinque prove dell'esistenza di Dio, che sono note anche come cinque vie, che sono la dimostrazione che si dava nel Medioevo, appunto, dell'esistenza di Dio, a noi vi fanno un po' sorridere queste vie, però non erano assolutamente discusse all'epoca. Allora, la prima via è quella dal mutamento, cioè sempre calcolata a posteriori. Tutto ciò che si muove è mosso da altro, quindi deve esserci un primum movens, cioè una cosa superiore a tutte che muove tutto, che è causa del movimento dell'altro, una sorta di motore immobile, evidentemente. Poi, seconda prova, dalla causa. Nessuna cosa può essere causa di se stessa. È una sorta di causalismo, no? Che sarà poi ripreso in fondo dall'ultima prova, dal finalismo. Quindi ci deve essere una causa prima e incausata. C'è ovviamente Dio. Terza prova, dalla contingenza. Ciò che può non essere, questa è un po' difficile, un tempo non c'era. Ok? Quindi il mondo, nello specifico, che può non essere, perché abbiamo detto che è actus essendi, quindi possibilità di essere, un tempo non c'era. Quindi se tutto può non essere, ci deve essere stato un momento in cui nulla c'era. Ma se fosse così, non esisterebbe nulla. È un po' un cerco vizioso. Quindi qualcosa deve necessariamente sussistere, altrimenti non ci sarebbe nulla. ovvero non può essere tutto contingente, cioè materiale, cioè sottoposto al divenire, ma occorre qualcosa di necessario, quindi che sia trascendente, che sia essere in senso assoluto. E questo essere ovviamente è Dio. Poi i gradi di perfezione, questa è abbastanza nota, cioè parte dalla constatazione empirica di una gradazione di perfezione, che è un po' il concetto anche che riprendeva prima con gli attributi del bonum e del verum. E dice, siccome c'è una scala di perfezioni nel mondo, ci deve essere una perfezione ultima o somma, a cui tutto tende, che ovviamente è Dio. Poi c'è il finalismo. Allora, secondo il finalismo, i corpi agiscono per un fine. Diciamo che è il, come dire, è il contrapunto del causalismo. La causa è prima, il finalismo è dopo, però è lo stesso concetto, se non altro. I corpi agiscono per un fine, e quindi sono diretti da un essere intelligente, da un essere intelligente, e quindi questo essere è Dio. E queste sono le 5 prove. Poi arriviamo infine, abbiamo detto all'uomo, perché Agostino parte da Dio, e poi dice, da Dio deduciamo tutto il resto. Arriviamo all'uomo, cioè alla morale, o anche detta etica, che è la sfera della giro umano. Agostino, dai, questo Agostino, niente, non ce la posso fare, Tommaso tematizza questi due concetti, libertà e libero arbitrio. Allora, secondo Tommaso, ho detto Tommaso, l'uomo è natura razionale, vabbè, e quindi conosce il fine delle cose, tuttavia, non di tutte le cose, no? Cioè, conosce il fine delle cose, che lui conosce, ma non il fine ultimo di tutte le cose, cioè Dio, gli ha detto infatti, che di Dio non è possibile una conoscenza, se non per via negativa. Infatti, se l'uomo avesse la visione di Dio, ne sarebbe attratto. Ma cosa succede? Che questo non si verifica molto spesso, perché? Perché l'uomo non lo conosce, o meglio, conosce solo i fini parziali, quindi conosce le cose che può esperire, che può sperimentare. E quindi, conoscendo solo fini parziali, non ha sempre l'attrazione verso Dio, anzi, quasi mai, ma piuttosto è libero, nel voler perseguire, perseguire o meno i fini parziali. Quindi, diciamo, è una pecca umana il fatto che, essendo finito, la sua conoscenza è fallace, e quindi non tende a Dio per un deficit, diciamo, di conoscenza. Ok? Quindi anche qui c'è un risvolto geoseologico fondamentale, che in realtà è un po' in tutta la filosofia. Quindi, questo per quanto riguarda la libertà. Quindi l'uomo è libero, ma il fatto che lui non abbia una conoscenza piena, ne limita la libertà, perché sarà libero di scegliere solo fini che, secondo lui, sono fini assoluti, in realtà sono fini parziali, perché il fine assoluto è solo Dio, ma l'uomo non lo conosce, e quindi è difficile che lo scelga. Ok? Poi, parliamo di libero arbitrio, che è un concetto ovviamente correlato a quello di libertà. L'uomo ha anche una disposizione naturale a comprendere il principio del bene e del male. Ok. Tuttavia, può scegliere ovviamente di rifiutare il bene in favore del male, e quindi compie il peccato. Quindi, il peccato dipende dal libero arbitrio. Questo porta, in Tommaso, a una concezione volontaristica, cioè, diciamo, individualistica, dell'atto morale e del peccato, va bene? dove tutto, come dire, lo sbaglio, il peccato che l'uomo compie dipende da egli stesso. La radice del male, secondo Tommaso, è dunque nella libertà. Ok? Perché il problema del male, ovviamente, in tutta la teologia medievale era fortemente sentito, no? Perché se Dio è somma a perfezione, ve la faccio proprio banale, da dove viene il male, dicevano i teologi. In realtà, tutti dicono che il male è sempre causato dall'uomo. Nello specifico, per Tommaso, il male viene o da un uso scorretto del libero arbitrio o da un uso sempre, diciamo, scorretto, cioè, incoerente della libertà. Quindi, la radice del male è nella libertà e quindi, in ultima analisi, nell'uomo. Certo, non viene da Dio. Da qui, Tommaso deriva la teoria del diritto, che è un po', come dire, la chiusa anche della sua visione teologica. Esistono, sì, ho scritto esistono, vabbè, quattro tipi di legge nel mondo, secondo Tommaso. La lex eterna, cioè la legge eterna, che è il piano razionale di Dio, cioè tipo l'ordine cosmico. La lex naturalis, che è la legge naturale, che è l'emanazione della legge eterna nel mondo. io scritto una specie di legge di conservazione, nel senso, faccio quello che mi procura del bene, evito quello che mi procura male. E poi, la lex umana. La lex umana è la legge positiva, cioè proprio la legislazione, diciamo, che l'uomo crea per la propria autoconservazione, che ovviamente è derivata dalla legge naturale, più o meno. In due modi, o per deduzione, allora abbiamo lo ius civile, o per specificazione, allora abbiamo lo ius gentium. Vabbè. Poi, l'ultima, attenzione, superiore a tutte, è la lex divina, che corrisponde con la rivelazione di Dio. Allora, dice Tommaso, le prime tre leggi sono espressione della lex eterna, la lex naturalis per quanto riguarda il mondo e la lex umana per quanto riguarda l'uomo. Quindi sono tutte, diciamo, derivate dalla lex eterna, se non è noto in teoria, perché la lex eterna si esprime nella lex naturalis, nel mondo e la lex naturalis si esprime nell'ambito umano e nella lex umana. E quindi, va bene, nel senso, sono da seguire in quanto esplicitazione della lex eterna. Tuttavia, la lex divina è su tutt'altro piano, infinitamente superiore, perché, corrispondendo con la rivelazione cristiana, mira al fine soprannaturale dell'uomo e quindi alla beatitudine celeste. Quindi, Agostino dice, va bene nelle prime tre leggi. Tuttavia, se l'uomo deve scegliere, deve sempre seguire la lex divina, perché il suo fine non è terreno, ma celeste. E questo è Tommaso. Ok? Sono stata un pochino rapida, quindi, se volete che approfondiamo dei punti, me lo dite. Grazie dell'attenzione e alla prossima! Grazie a tutti!